Bill Gates è uno dei più noti imprenditori e filantropi al mondo. Nel corso degli anni, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dell'industria informatica e ha fondato la Microsoft Corporation, diventando una delle persone più ricche al mondo. Nel 2000, Bill Gates stava ancora guidando attivamente la Microsoft come CEO. In quel periodo, la società stava affrontando sfide e opportunità significative nel settore tecnologico. Nel corso dell'anno, Microsoft ha lanciato il sistema operativo Windows 2000, che rappresentava un passo avanti nella stabilità e nella sicurezza rispetto alle versioni precedenti. È interessante notare che il 2000 è stato anche l'anno in cui Bill Gates ha iniziato a concentrarsi maggiormente sulla filantropia. Nel gennaio 2000, insieme alla sua ex moglie Melinda, ha fondato la Beaumont and the Gates Foundation, un'organizzazione dedicata a migliorare l'istruzione. La salute e le opportunità economiche in tutto il mondo. Una delle frasi più famose attribuite a Bill Gates è Abbiamo bisogno di non avere paura di iniziare da capo. L'importante è muoversi rapidamente, con umiltà e con il coraggio di prendere decisioni difficili.